una lotta durissima e mancava poco e così ha scelto di fare un'ultima sorpresa al pubblico e a chi le voleva bene Ciao Giorgio senti mi è venuta un'idea hai tempo oggi di passare qui a casa mia con la telecamera tutta l'attrezzatura, microfoni cose varie sorpresa ti dico tutto quando sei qua però mi serve la camera anche guarda che lascia riconoscere una telecamera accesa non volevo dirtelo non mi freghi a me io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte tutte le cure possibili ha raccontato al suo collega e amico Giorgio Romiti vedremo quanto tempo avrò ancora ma non credo molto un video commovente in cui Nadia ha voluto ripercorrere il suo ultimo anno e collezionare gli incontri con gli amici i parenti, i colleghi che l'hanno accompagnata fino all'ultimo il filmato di 20 minuti andrà in onda stasera per la prima volta un ultimo tributo alla iena bionda dal sorriso contagioso andrà in onda stasera per la prima volta andrà in onda stasera per la prima volta andrà in onda stasera per la prima volta andrà in onda stasera per la prima volta